Secondo quanto riportato da alcuni giornali nel novembre dello scorso anno e dall'inchiesta televisiva Report, tra le imprese che parrebbe abbiano usufruito impropriamente o percepito impropriamente la cassa straordinaria Covid, appunto c'è Visibilia Editore, società quotata in borsa, a suo tempo controllata dall'allora senatrice Santanchè. Il 22 marzo del 2020 Visibilia Editore comunicava che non avrebbe bloccato la produzione e la vendita dei giornali, ma dall'inchiesta pare che sia andata diversamente. Ora siamo qui a chiederle, signora Ministra, quali sono le iniziative fine a volte a verificare se concretamente Visibilia Editore ha usufruito o percepito impropriamente la cassa Covid e soprattutto quali sono le misure volte a capire se siamo dinanzi a un fatto di imprenditoria o di prenditoria, perché questa è la domanda alla quale noi chiediamo una risposta. Grazie. Grazie Onorevole. La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di rispondere per tre minuti. Prego Ministra. Grazie, signora Presidente. Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative di competenza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intenda adottare al fine di verificare i comportamenti della società Visibilia Editore e S.P.A. in merito alle vicende riportate in questi giorni dagli organi di informazione. In via preliminare, come certamente noto agli interroganti, segnalo che dall'entrata in vigore del decreto legislativo numero 149 del 2015, intervenuta il 14 settembre 2015, il Ministero non ha poteri ispettivi che sono stati totalmente trasferiti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, agenzia unica per le ispezioni del lavoro. Nella materia oggetto della presente interrogazione, ha poi poteri di verifica anche l'Inps, ai fini della valutazione della legittimità della concessione degli ammortizzatori sociali. Su entrambi gli enti il Ministero mantiene esclusivamente poteri e funzioni di vigilanza. In ordine alla concessione della Cassa Integrazione Guadagni, la normativa vigente, in particolare per la cosiddetta Cassa Covid dell'articolo 22 Quater del DL 18 del 2020, prevede che nel caso in cui si è approvato l'indebito accesso del datore di lavoro all'utilizzo degli strumenti di integrazione salariale, le somme anticipate siano recuperate con una procedura amministrativa fatta salva l'eventuale responsabilità penale in caso di commissione di reati connessi alla richiesta di concessione. Fatte queste doverose premesse, si rappresenta agli onorevoli interroganti che sulle vecende in esame è confermata la piena e costante attenzione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in ordine alle attività svolte e in corso di svolgimento da parte degli organismi ispettivi vigilati sulla quale sarà possibile fare una piena valutazione solo agli esiti delle stesse. Nel contempo si assicura all'autorità giudiziaria ogni utile collaborazione. Grazie Ministra. A facoltà di replicare il deputato Scotto per due minuti. Prego onorevole. Grazie Signora Presidente. Può capitare che la cronaca, quando si tratta della Ministra Sant'Anche, corra troppo spedita persino per l'opposizione. Stamane e il domani ci racconta di una funambolica speculazione immobiliare in Versilia che convolgerebbe moglie e marito, sia Sant'Anche sia l'amico del cuore era russa, ma non mi soffermerò sul gioco delle coppie. Io le pongo un fatto ineludibile, Signora Ministra, è un giudizio. Se hai giurato sulla Costituzione non puoi mentire al Parlamento e restare un minuto in più al tuo posto. Dite no al salario minimo per 3 milioni di lavoratori poveri, definite il reddito di cittadinanza paghetta di Stato, ma chiudete un occhio su una vostra collega che avrebbe preso i soldi della Cassa Integrazione Covid facendo lavorare i propri dipendenti, peraltro a loro insaputa. Un uso cinico, spregiudicato delle risorse pubbliche. Ora, lei non manderà nemmeno un controllo. Ha detto se ne occupa l'Ispettorato del Lavoro, nel frattempo avete tolto il vertice dell'Ispettorato del Lavoro e non avete nominato nessun altro. Se ne occupa l'Inps, avete fatto addirittura un decreto per commissariato. E l'Inps non si sa che cosa fa. Si limita con insostenibile leggerezza dell'essere ad aggirare la realtà. Ma prima o poi qualcuno vi presenterà il conto delle omissioni, delle menzogne e delle fughe. Vede, l'immoralità dei professionisti delle lezioncine morali, quelli alla Santa Anchea, soprattutto verso i più poveri e più indifesi, hanno cominciato a stancare anche chi vi ha votato. Per questo ribadiamo al Governo di pretendere una risposta e chiediamo che la Ministra Santa Anchea si dimetta. Grazie, onorevole.